carissimi amici e amiche ben tornati ben ritrovati siamo insieme per un nuovo appuntamento con il catechismo di san pio decimo anche questa sera avremo delle bellissime informazioni e formazioni diciamo così sul sul laureo e divino sacramento dell'eucharistia perché ci siamo lasciati avendolo introdotto ma non l'abbiamo completato appunto per non per non correre troppo su un tema così importante e delicato che merita evidentemente di essere digerito con carna ci siamo fermati la volta scorsa alla alla sezione quindi al capitolo al paragrafo dedicato alla presenza reale di gesù nell'eucharistia il secondo dei quattro abbiamo cominciato a parlare della consagrazione e dobbiamo terminare appunto quel paragrafo riprendo subito la lettura non perderci troppo in preamboli e lasciar parlare di più il catechismo siamo al numero 329 che dice così dopo la consagrazione non c'è più niente del pane e del vino ma ne restano solamente le specie o apparenze senza la sostanza abbiamo già visto l'anno scorso che questo è il motivo per cui l'eucharistia è il più grande miracolo di nostro signore gesù cristo perché noi abbiamo gli accidenti propri di una sostanza come spiegherà nel numero seguente lo leggo subito dice cosa sono le specie di apparenze le specie di apparenze sono tutto ciò che cade sotto i sensi come la figura il colore l'odore il sapore del pane e del vino che rimangono immutati quel colore quel sapore quella o odore e quella figura sono gli accidenti propri di quelle sostanze per cui non possono rimanere sussistenti senza la sostanza a meno che non ci sia un miracolo è impossibile così come se non c'è un miracolo è impossibile con corpo umano si manifesti attraverso quegli accidenti che sono i suoi sono di altre sostanze capite l'approfondimento di queste cose non è che ci fa proprio bucare il mistero perché comunque rimane un mistero come sia possibile non lo sappiamo come sia possibile una cosa del genere però sappiamo appunto che è impossibile umanamente parlando ecco perché è grande il merito anche di chi ci crede ed ecco perché grande è l'adorazione che dobbiamo sempre avere nei confronti dell'eucaristia no? a un'altra domanda questo è proprio un riferimento esplicito ad un dettaglio che forse poi lo spiegherò esatto leggiamo prima il testo che lo spiega bene San Tommaso d'Aquino nella Somma Teologia il Catechismo di San Pio X lo segue gli insegnamenti dell'Aquinate proprio alla lettera come era prassi e tradizione costante nella chiesa per quasi ragazzi per quasi 700 anni e mica per una settimana dice il 331 e questo è molto importante per la nostra formazione sotto le apparenze del pane c'è solo il corpo di Gesù Cristo o sotto quelle del vino c'è solo il suo sangue? la risposta è no sotto le apparenze del pane c'è tutto Gesù in corpo, sangue, anima e divinità e così sotto quelle del vino perché? perché San Paolo, San Tommaso scusate, distingue due tipi di presenze la presenza propria cioè la sostanza in cui la singola specie si trasforma quindi il pane si trasforma in corpo e il vino si trasforma in sangue perché durante la consapevole si dice questo è il mio corpo e questo è il mio sangue ora, questa presenza diciamo così primaria e sostanziale quindi è presente la sostanza del corpo di Cristo la sostanza del corpo e del sangue di Cristo separati l'uno dall'altro siccome Gesù è molto intelligente sicuramente lo riprenderà dal catechismo quando parlerà del santo sacrificio della Messa è finalizzata proprio a questo cioè che sull'altare si deve riprodurre misticamente il fatto che è avvenuto in maniera cruenta solo una volta ma che si riproduce in ogni altare che è la separazione del sangue dal corpo cioè sull'altare corpo e sangue si trovano separati l'uno dall'altro perché? perché separati l'uno dall'altro erano quando Gesù stava soffrendo questo è il mese del preziosissimo sangue c'è una bellissima coroncina devozionale del preziosissimo sangue che sono le sette contemplazioni del sangue di Cristo che è eccettuata la prima che è quella della circoncisione che tra l'altro fu una sofferenza comunque offerta coscientemente dal Signore sono tutte le sofferenze della passione quindi il sangue di Gesù nel Gezzemani il sangue di Gesù nella fagelazione nella coronazione di spine nella via dolorosa nella crocifissione nella transververazione con la lancia quindi tutti i momenti in cui il sangue è uscito dal corpo però a fianco a questa presenza subspecie sacramenti c'è anche quella che Sant'Ommaso chiama la presenza per concomitanza che significa? significa non ci vuole tanto per capirlo allora noi sappiamo bene che Gesù Cristo è risolto quindi la sua persona divina con la doppia natura umana divina è integra allora facciamola facile facile io Don Leonardo in questo momento sono vivo giusto? è chiaro che se io faccio vedere sul video la mia mano la mia mano è sostanza parziale di una parte del mio corpo ok? il problema è che dove sta la mia mano non è che la mia mano io la posso prendere e mandarla a Roma dove sta la mia mano c'è anche il braccio dove c'è il braccio c'è anche la spalla dove c'è la spalla c'è anche il petto e c'è la testa ma dove c'è la testa si spera dentro il corpo attenzione dentro la mano che è viva scorre il sangue e in tutto il corpo c'è la mia anima e nella testa si dovrebbero stare speriamo le facoltà spirituali dell'anima che speriamo funzionino bene quindi se da qualche parte c'è la sostanza del mio corpo qualunque parte del mio corpo sia ci sono io perché sono vivo la capiamo no? se l'ossia si trasforma nella sostanza del corpo di Cristo che è diciamo così il punto di riferimento primario e proprio però dove c'è il corpo c'è tutta la persona e la stessa cosa vale per il sangue io sono vivo adesso quindi il mio sangue scorre dentro le mie vene quindi è impossibile che il mio sangue stia in qualche posto a meno che qualcuno non mi ferisca che non sia all'interno del mio corpo quindi dove c'è il mio sangue ci sono io sapete come erano intelligenti i teologi di un tempo no? quindi questo è il primo aspetto fondamentale ecco perché cioè noi quando facciamo l'adorazione all'eucaristia non è che facciamo l'adorazione semplicemente al corpo di Cristo lì c'è Gesù in persona in persona quando facciamo la comunione non è che facciamo la comunione al corpo di Cristo sapete che c'è tanta gente che dice ma perché non si può fare la comunione sotto le due specie è una comunione incompleta perché prendono soltanto il corpo ma non prendono il sangue di Cristo è falso questo qui è falso il sacerdote si comunica al corpo e al sangue sapete perché? perché deve consumare il sacrificio perché attraverso le specie transustanziate del corpo e del sangue separate sull'altare si compie il sacrificio caristico e il sacrificio caristico per essere compito deve essere consumato ecco anche il motivo per cui solo la comunione del sacerdote è obbligatoria il sacerdote non potrebbe mai celebrare una messa senza farsi la comunione mai invece che si faccia la comunione un fedele non è affatto necessario ai fini della validità perfetta della messa se io celebro la messa da sola da solo senza nessuno neanche il ministro io ho reso un atto perfettissimo di culto a Dio che fa bene a tutta quanta la chiesa che a cui non manca assolutamente nulla questi concetti specialmente di questi tempi è necessario tenerli molto 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 chiari nel numero 332 c'è un altro punto approfondito da Sant'Omaso che peraltro è contenuto nella splendida la sequenza del corpus domini e che ci fa comprendere quanto è importante la riverenza assoluta all'ostia consacrata e qui chiaramente è coinvolto io lo dico perché lo è coinvolto il problema che non sarebbe mai dovuto sorgere per quanto mi riguarda nella chiesa cattolica che purtroppo è sorto della comunione in mano perché dice quando si rompe l'ostia in più parti si rompe il corpo di Gesù Cristo quando si rompe l'ostia in più parti non si rompe il corpo di Gesù Cristo ma solamente attenzione alle specie del pane il corpo del Signore rimane intero in ciascuna parte io ho l'ostia consacrata che è l'ostia magna la spezzo in due non ho rotto il corpo di Cristo sapete no? avete visto che prima della comunione c'è la fraxio panis la frazione del pane e poi c'è l'immistione il sacerdote prende un pezzettino di ostia e la mette nel carico sono tutti quanti gesti simbolici ma molto significativi perché la fraxio panis simboleggia il fatto che il corpo di Gesù è stato rotto cioè morto è stato rotto violentemente ma attenzione però rompendo l'ostia non è che lo sto rirompendo un'altra volta perché il corpo non si può rompere perché è una presenza sostanziale sostanziale quindi se io come dire prendo una pagnotta e la divido in due ho semplicemente due parti dello stesso identico pane pane è quello e pane è quell'altro ok se io prendo una mollica di pane è sempre pane quindi se io c'è un frammento visibile di ostia consacrata lì c'è Gesù Cristo tutto intero cioè in un frammento un frammento c'è Gesù Cristo tutto intero cioè non è un frammento che sarà è un'unghia del corpo di Cristo no non è un'unghia no attenzione che dobbiamo capire bene per quanto ci riusciamo il fatto che è una presenza sostanziale è la sostanza che cambia quindi quella diventa sostanza corpo e quindi dovunque c'è la sostanza corpo per quello che vi ho detto prima dovunque c'è la sostanza corpo per il fatto che Gesù Cristo è vivo è vivente è ipso facto presente la sua persona vedete altre volte che gli ortodossi che fanno tutti e tre i sacramenti dell'iniziazione cristiana al bambino al neonato come fanno a fargli prendere la comunione prendono una goccettina un cucchiaino piccolo 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 di sangue di Cristo consacrato e glielo mettono in bocca quello ha fatto la comunione o adesso pensate Gesù Cristo 330 guardate che belle queste cose si trova in tutte le ostie consacrate del mondo sì amici miei cari Gesù Cristo si trova in tutte le ostie consacrate del mondo e pensiamoci ogni tanto uno si chiederebbe ma come fa ma vi rendete cioè ci rendiamo conto ma non è che ci sono che ne so 500 milioni di Gesù Cristo in giro in tutto il mondo è sempre lo stesso Gesù Cristo che in virtù del suo potere divino è presente non soltanto in canti strano 500 milioni di tabernacoli del mondo ho detto un numero tanto per dirlo i cattori sono miliardo e due miliardo e tre forse sono troppi 500 milioni di tabernacoli ma 500 milioni di ostie consacrate potrebbe essere un numero verosimile boh è così per Dio non c'è nessun problema a fare un'operazione di questo genere e perché si conserva nelle chiese la Santissima Eucharistia conclude questa sezione la Santissima Eucharistia si conserva nelle chiese perché i fedeli l'adorino uno perché la ricevano nella comunione due e perché sentano in essa la perpetua assistenza e presenza di Gesù Cristo nella chiesa Gesù prima di scendere al cielo ha promesso io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo non è una promessa che cioè non sarebbe nessuna promessa cioè voi sapete bene che nessuno di noi può sottrarsi alla presenza di Dio non è possibile cioè io posso scegliere di vivere come se lui non ci fosse questo è possibile perché lui ha dato la libera volontà ma Dio è testimone di ogni mio atto è testimone di ogni mio pensiero di tutto è necessariamente sempre con me certo non è con me con quella presenza se io non ci credo o non lo voglio con quella presenza bella di uno che ha il tuo fianco per aiutarti per sorreggerti non perché non lo vuole fare ma perché la creatura può sottrarsi a questa cosa quindi se Gesù avesse detto io sono con voi tutti i giorni in quanto Dio ma che beh non c'è bisogno che dice quella cosa perché quella cosa già c'è ed è impossibile che non ci sia perché Dio è presente tutto e dappertutto non c'è posto di tutto quanto l'universo dove Dio non sia immediatamente totalmente presente non c'è nessuno che si può nascondere davanti a lui sottrarre la sua influenza sottrarre i suoi occhi non dimentichiamone mai queste cose che tra l'altro abbiamo visto nei primissimi numeri del catechismo di San Pio X quindi Gesù non ha fatto quella promessa io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo in quanto Dio perché è una promessa inutile in quanto Dio ma la adempie in quanto uomo e in quanto uomo la sua umanità come dire visibile si trova come si dice nel credo in cielo alla testa del Padre ma anche in tutte le ostie consacrate quindi che in Chiesa ci sia l'ostia consacrata significa che ogni volta che tu la vedi ti ricordi che Gesù sta con la Chiesa sta con noi è al nostro fianco ora immaginate alla luce di questo quale proprio atteggiamento esecrabile inqualificabile è quello della stragrande maggioranza dei cosiddetti cattolici cosiddetti fedeli in ogni caso battezzati che della presenza di Gesù nelle tabernacole nelle chiese non gliene può importare assolutamente che di meno neanche quel gesto che le nostre nonne hanno quantomeno insegnato alle nostre mamme speriamo che le nostre mamme ci abbiano insegnato anche a noi che almeno quando si passa davanti a una chiesa faccia il segno della croce io non credo che lo facciano tutti quanti i battezzati almeno io non lo vedo anzi non lo vedo fare quasi mai lo faccio solo io non è che lo faccio solo io quando passo davanti qualche chiesa e c'è anche altra gente vedo che soltanto io faccio questo questo gesto a meno che non ci sia vicino a me qualche anima che è stata formata come tra virgolette alla mia scuola e certamente lo fanno pure loro perché hanno imparato la presenza di Gesù nel tabernacolo è una cosa importantissima non sufficientemente valorizzata dai fedeli e il che mi dispiace oltre che grande ingratitudine è anche un comportamento oltremodo stupido perché cioè pensare che domini Dio cioè guardate che la presenza di Gesù nell'eocresia non c'è nessuna differenza sostanziale tra la presenza di Gesù Cristo in paradiso seduto alla testa del Padre nessuna quindi noi davanti al tabernacolo davanti all'eocresia stiamo in paradiso e certo non ci sta la visione beatifica quindi non perché c'è ancora il velo della fede siamo ancora viatori ma di fatto noi stiamo in paradiso cioè i momenti in assoluto più belli della giornata sono quelli che trascordiamo in compagnia di Gesù e Cristia messa comunione e adorazione quando la vita cristiana si qualifica in un certo modo ora non voglio mettere in croce nessuno a meno che non ci siano degli impedimenti oggettivi quindi delle impossibilità oggettive perché capisco bene insomma che la vita di fedeli danci che vivono nel mondo può essere un pochino diciamo così complicata diciamo così no però fuori di questa cosa se un fedele ancora non è innamorato della presenza e della compagnia di Gesù Caristia sta ancora un pochino lontano dal regno di Dio ricordate quando Gesù disse allo scriba che gli aveva risposto bene alle domande sul primo comandamento tu non sei lontano dal regno di Dio se uno sta ancora con un rapporto molto molto come dire freddo formale distaccato non intenso con l'Eucaristia sta ancora lontano dal regno passiamo al paragrafo terzo quante sono le cose necessarie per fare una buona comunione sono tre queste cose le insegno sempre ai ragazzini del catechismo tre vedremo che sono tre per fare una buona comunione e a suo tempo vedremo che sono cinque per fare una buona confessione queste cose figlioli miei cari bisogna impararle a memoria il catechismo imparato a memoria non è certamente una cosa da disprezzare come pensa qualcuno certo non è la memoria pappagallesca voi sapete che gli animali imparano a memoria perché ce l'hanno una memoria si chiama la memoria sensitiva che si basa fondamentalmente sul principio dell'associazione si dice imparare a pappagallo perché voi sapete il pappagallo il pappagallo parla il pappagallo non parla il pappagallo ripete suoni cioè quindi ha una conformazione tale del suo interno che è in grado di riprodurre i suoni delle nostre parole ma come fai a insegnargli tu a pappagallo gli devi ripetere 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 e poi lui comincia e ripete si associa queste cose qui se tu sarà capace di ripetere quel nome in presenza mia e quindi mi vede dice Leonardo per esempio dice guarda che bello il pappagallo lo chiamano il pappagallo non lo sa che mi sta chiamando e non mi sta chiamando ha semplicemente fatto suo un meccanismo ripetitivo allora che tu ti impari a memoria a pappagallo il catechismo non serve a niente d'accordo perché tu devi capire devi però capire senza imparare non è utile lo stesso perché tu hai capito ma se poi quella cosa che hai capito non la possiedi non la metti in pratica che l'hai capita a fa? se la possiedi a pappagallo e non l'hai capita che la possiedi a fa? allora con la scusa del fatto che molta gente si imparava le cose a pappagallo è stata messa nel dimenticatoio l'importanza dell'imparare le cose a memoria ma questo non fira quindi non va bene imparare le cose a memoria a pappagallo ma va bene imparare le cose a memoria capendole e comprendendole in modo tale che ritenendole le posso mettere in pratica allora per fare la comunione ci vogliono tre cose essere in grazia di Dio la prima è la più importante che oggi non la sa quasi nessuno la seconda anche questa abbastanza trascurata sapere e pensare chi si va a ricevere e la terza essere di giuni è ai tempi del catismo l'esempio decimo dalla mezzanotte non c'era la messa vespertina quindi immaginate questo è tutto quanto datato con l'avvento delle messe vespertine il digiuno fu ridotto a tre ore adesso è diventata addirittura una una modesto mio parere soggettivo personale allora chi osserva il digiuno di un'ora osserva la legge d'attuale della chiesa quindi non si preoccupi se si tratta di un caffè un'ora c'è paura che sta si tratta proprio di una di una sostanza solida va bene lo stesso però con le sostanze solide secondo me se si allungano un po' i tempi è meglio semplicemente per un motivo che non ci sia il pericolo che restino dei residui di cibo in bocca sperdonate ne sono così più che insomma non sarebbe proprio il massimo della reverenza e anche cioè l'ostia noi dobbiamo pensare per quanto si scioglie in bocca perché voglio ben sperare che nessuno gli venga in mente di masticarla l'ostia però in ogni caso può scendere il nostro stomaco e ciò che rimane dell'ostia sicuramente non va dentro la trachea quindi non sarebbe sembrerebbe molto rispettoso farci trovare insieme anche altri come dire resti di cibo che stanno ancora in processo di digestione di scomposizione per la digestione no? andiamo adesso a vedere un attimo nel dettaglio poi parleremo meglio del digiuno eucaristico che significa essere in grazia di Dio essere in grazia di Dio significa avere la coscienza monda da ogni peccato mortale ora chiaramente voi sapete quante volte anche io cerco di sensibilizzare di insegnare alle persone l'importanza del primato della coscienza il primato della coscienza però non significa che quello che penso io bypassa la legge di Dio oggi purtroppo le coscienze non sono formate quindi avere la coscienza monda da ogni peccato mortale funziona se quella coscienza è stata cristianamente formata c'è gente che commette una montagna per esempio di peccati impuri e che pensa che sta facendo niente di male quindi che significa significa che la coscienza che è purtroppo che si è ingrezzita nell'attuale contesto storico culturale c'è gente che salta la messa domenicale e va tranquillamente a farsi la comunione quindi la coscienza funziona correttamente quindi ci richiamo correttamente se è stata formata bene la coscienza deve essere cristianamente formata per vedere le discussioni che stanno facendo adesso sulla contraccezione dice ma noi non possiamo mettere in croce le famiglie e i conugi perché se i conugi valutano in cor loro che hanno già due figli e quindi avere un terzo non sarebbe opportuno in coscienza scelgono la contraccezione e nessuno non gli può dire niente oh ma che dici che dici la contraccezione è un atto intrinsecamente cattivo tale è e tale resterà sempre e nessuno può togliere questa cosa quindi non è che se due conugi che lei prende la pillola io mi sento che non sto a fare niente di male vado a fare come tranquillamente che tanto me la vedo io col padre eterno no 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 perché faresti un sacrilegio che non so quanto una casa e sentiamo che succede e va bene se sono in peccato mortale ricevi Gesù Cristo bellissima domanda 337 chi si comunica sapendo di essere in peccato mortale riceve Gesù Cristo che pensate voi riceve Gesù Cristo oppure riceve un pezzo di pane perché Gesù Cristo sai se una persona sta in peccato mortale se ne va dall'ostia perché dice no io non ci vado dentro dentro quello allora sentite che bella risposta che dà il carichismo nel San Pio X chi si comunica in stato di peccato mortale riceve Gesù Cristo ma non la sua grazia anzi commettendo un orribile sacrilegio si rende meritevole di dannazione non esiste mettiamocelo bene in testa secondo una sfilza di santi decito due fra tutti Sant'Alfonso e Sant'Oligi Maria Grignondamonfort Sant'Alfonso Maria Le Liguori non c'è peccato più grave che la comunione sacrilega non c'è perché la comunione sacrilega è uno sfregio satanico fatto nei confronti di nostro Signore io racconto sempre quello che diceva un sacerdote della mia città molto anziano se tu fai una comunione senza essere in grazia sarebbe come se tu prendi l'ostia consacrata e la butti dentro l'etamaio insomma non credo che sia una cosa bella quindi ricevi Gesù Cristo ma non ricevi la sua grazia anzi commettendo un orribile sacrilegio si rende meritevole di dannazione dannazione eh quindi mi raccomando che nessuno si azzardi a farsi la comunione né ma mi confesso dopo non ti confessi prima non che ti confessi dopo ti confessi prima se sei consapevole di essere in stato di peccato mortale ma è morto mio padre sono andato al funerale e ti pare che non mi faccio la comunione no se non ti sei confessato la comunione non te la fai ma cosa è morto tuo padre ma cosa è morto tua madre ma cosa è morto tuo figlio non è che c'è qualche motivazione per cui no 338 che significa sapere e pensare chi si va a ricevere la seconda condizione per una buona comunione sapere e pensare chi si va a ricevere significa accostarsi al nostro signore Gesù Cristo nell'Eucharistia sentite bene con fede viva adesso li commento tutti e quattro con ardente desiderio e con profonda umiltà e modestia modestia adesso andiamo a vedere tutti e quattro fede viva fede viva vuol dire la fede è viva quando io ci credo ci credo ci credo che sto andando a ricevere al nostro signore ci credo ci credo ci credo ci credo e se ci credo ci credo ci credo sto in fibrillazione c'è l'ardente desiderio nel nostro cuore è il tuo desiderio più grande che tu non vedi l'ora perché l'ideale fatta la comunione bisogna già cominciare a pensare alla prossima e cominciare a fare la ginnastica del desiderio così funziona bene ardente desiderio san pio decimo stesso fu quello che mise che autorizzò la comunione anche quotidiana proprio per non perché la comunione diventasse un'abitudine e così il desiderio cala ma perché proprio per questo motivo diventasse proprio che uno sta al settimo cielo ci posso fare la comunione tutti i giorni ho fatto questa cosa bellissima diciamo domani ce la puoi già riavere quindi fede via ardente desiderio profonda umiltà non per niente c'è il domino non sono digno sennò prima di fare la comunione una volta si ripeteva il confiteor prima di fare la comunione profonda umiltà e modestia modestia la modestia è sempre un atteggiamento esteriore vestiti recentemente significa specialmente d'estate e questo vale sia per i maschietti che per le femminucce in chiesa in pantaloncini e sandaletti o in tradito o in tradito non si va tantomeno a fare la comunione dobbiamo reimpararle queste cose io quando le persone dico eh sì ma che esagerazioni dico sono esagerazioni sicuro che sono esagerazioni bene facciamo così che se ti invita il presidente della repubblica al Quirinale ad una cerimonia ufficiale davanti ai corazzieri faccia in pantaloncini e birkenstock e magliettina a maniche corte e t-shirt a maniche corte vediamo che succede se ti fanno entrare e quello è il presidente della repubblica quindi che con tutto il rispetto ma dinanzi al domine Dio è un omuncolo eh sarà proprio un po' più importante domine domine Dio qui non si tratta di andare cioè perché ma io sono povero ma per carità di Dio nessuno ti ha detto di andare a farti la comunione con il tight o con lo smoking d'accordo o con i vestiti firmati che c'è 3.000 euro di roba addosso chi l'ha detta questa cosa qui la decenza è perfettamente compatibile la decenza e la modestia con la povertà non credo che la Madonna e il nostro Signore di Gesù Cristo fossero ricchi ma forse qualcuno pensa che non fossero modesti vedete che chiaramente il Catechismo di San Pio X per esempio non mi immagino non affronta neanche il problema di eventuali comunioni in mano perché la comunione in mano per quanto mi riguarda almeno 3 su 4 di queste cose le contraddice fede viva cioè tu c'è la fede viva e quella è domine Dio e tu per prendere domine Dio come se fosse una caramella senza nessuna differenza cioè tu prendi una caramella te la metti in mano la scarta e te la mani con le mani tue quella è profonda umiltà cioè un gesto umile cioè prendere la comunione in mano un gesto umile in piedi umiliarsi significa umiliarsi umilis umus aclinus in latino significa con la faccia dentro la terra ora non dico con la faccia dentro la terra però insomma no e modestia cioè è quello il modo corretto di di ricevere il cibo celeste o Dio io faccio domande poi queste domande qui se se mi sto sbagliando per carità ma magari sarei molto contento di di sbagliarmi quindi le persone che queste cose le vivono abbiano il coraggio di tirare le conseguenze e quindi di dare testimonianza perché ma oggi non lo fa più nessuno ma oggi in tante messe tra mail gli interventi dopo le dirette che mi arrivano non te la danno se prendi la comune in bocchia in ginocchio non te la danno e lascia che non te la diano lascia che non te la diano se ritieni queste cose importanti eh attenzione ecco che qui sto cercando sempre di attivare di come dire di attivare le coscienze perché poi le scelte sono conseguenti a quello che la coscienza ci dice alla luce di queste cose però capite una coscienza deve essere formata io mi sono sempre chiesto è una domanda a partire domanda non è peccato no come è possibile che una coscienza che sia formata su queste cose quindi sapere e pensare che si va a ricevere che è una condizione necessaria per fare una buona comunione significa accostarsi al nostro Signore Gesù Cristo con fede viva ardente desiderio profondo umiltà e modesti io dico una coscienza formata in questo modo come fa a prendere la comunione in mano per me che sono stupido evidentemente quindi non non sono abbastanza intelligente rimane un mistero un mistero quale digiuno si richiede prima della comunione questo leggiamo questo numero che è 339 come al momento un archivio storico no l'esperienza della comunione si richiede il digiuno naturale ossia totale che si rompe con qualsiasi cosa presa a modo di cibo o di bevanda la seconda parte dobbiamo ritenerla perché c'è gente per esempio sui nostri volte le mie esperienze di parroco che in chiesa prendono una mentina e se la mangia prendono una liquirizia e se la mangia la mentina e la liquirizia la mentina e la liquirizia rompono il digiuno e non si mangiano prima di fare la comunione il caffè rompe il digiuno il caffè rompe il digiuno perché il caffè è una bevanda per quanto la Coca Cola rompe il digiuno la Coca Cola rompe il digiuno l'acqua no solo l'acqua non rompe il digiuno e questo sempre perché conosciamo la disciplina di un tempo che era molto rigorosa ma in vista forse troppo rigorosa lo posso pure concedere che il digiuno dalla mezzanotte del giorno prima era veramente tanta roba permessa mai la comunione che non ha digiuno la comunione che non ha digiuno è permessa in pericolo di morte sentite e durante le lunghe malattie nelle condizioni determinate dalla chiesa c'è il pericolo di morte ora noi potremmo anche sorridere dinanzi a queste cose no ma voi capite bene che il discorso è di una semplicità mi avviso proprio disarmante la chiesa e qui chiaramente si fa particolare riferimento utilizzando chiesa in questo modo a quella che un tempo tocca dire così veniva chiamata la chiesa docente e chi è la chiesa docente sono papi cardinali e vescovi e sacerdoti in maniera subordinata tu hai ricevuto la custodia di un tesoro tu non puoi non sapere che cos'è l'eucaristia tu chiesa in teso tu vescovo tu cardinale tu prete tu papa la prendiamo lo sai bene che cos'è l'eucaristia ma tu sai bene che un povero fedele che non ha studiato d'accordo non ha approfondito potrebbe avere difficoltà a credere che nell'ostra c'è veramente Gesù Cristo ma tu lo devi aiutare o no e come? con queste cose con tutta quanto una serie di accorgimenti o di disposizioni anche molto severe dicevo ah perché non devo mangiare al giorno prima vado a fare una cosa importante vado a fare ora che possa essere eccessivo l'ho già detto concesso però dobbiamo capire la razio che stava dietro queste cose la razio leggis io ho studiato tanti anni fa la legge quindi la razio leggis significa perché c'erano queste norme così severe perché erano una banda di pazzi esauriti rigidi medievali che ne so che non so che altre vito digli fuori di testa esagerati queste sono le risposte degli imbecilli perdonatemi insomma al termine no perché non sono risposte ragionevoli che pensiamo che tutti che gli intelligenti sono soltanto figli del ventesimo ventunesimo secolo prima c'era una banda dei deficienti io non credo proprio quindi tutta questa legislazione c'è lo scopo di provocare un senso alto di riverenza verso l'Eucharistia 341 c'è obbligo di ricevere la comunione risposta c'è obbligo di ricevere la comunione ogni anno a Pasqua è in pericolo di morte come viatico che sostenti l'anima nel viaggio all'eternità quindi capite la comunione è obbligatoria per il sacerdote oggi di questi ormai sono diversi anni che circola sta cosa che se uno va ammesso a non fare la comunione è come se ammesso non si fosse andato ecco perché tutte le questioni pure i famosi divorziati risposati sembra che se uno non fa la comunione è il finimondo ma oh allora sia ben chiaro nostro signore Gesù Cristo ha istituito l'Eucharistia per raggiungere le anime lui brama dal desiderio di entrare in ogni anima ben disposta ad accoglierlo e magari tutti lo fossero e magari tutti i 7 miliardi del pianeta Terra andassero tutti a messare tutti i giorni e facessero la comunione tutti i giorni come Dio comanda questo sarebbe il top ok il problema è che di fatto ahimè purtroppo la stragrande maggioranza della gente non è disposta disposta cioè non c'è la disposizione interioritaria da potersi comunicare quindi non lo deve fare perché la comunione ogni anno a Pasqua è preceduta dalla confessione ogni anno a Pasqua è in pericolo di morte insieme all'olio santo il viatico è importantissimo vi assicuro che la mia esperienza di parroco i sacramenti sono tutti in crisi ma l'unzione e il viatico lo sono di più a quale età comincia l'obbligo della comunione pasquale 342 l'obbligo della comunione pasquale comincia all'età in cui si è capace di parla con sufficienti disposizioni cioè d'ordinario circa i sette anni interessante che oggi la comunione si fa a nove o a dieci quindi come fa ad adempiere l'obbligo pasquale a sette anni se la comunione ancora non l'ha fatta anche questa disposizione la dobbiamo intendere come testimonianza di un'epoca che c'è stata poi se sia auspicabile che torni o se è meglio che sia finita questo è un giudizio personale e soggettivo i giudizi e le opinioni sono tutte quante rispettabili anche se non sono tutte vere ed eventualmente hai posto di lardua sentenza quindi se questa cosa qui sia meno male che non è più così oppure disgraziatamente non è più così 343 cosa buona e utile comunicarsi spesso e qui c'è proprio il cuore di San Pio X è cosa ottima e utilissima comunicarsi spesso anche tutti i giorni purché vedete come Gesù sempre aggiunge si faccia sempre con le dovute disposizioni se un ministro di Dio si mette a fare le arringhe fate la comunione fate la comunione che Gesù è contento eccetera eccetera ma non aggiunge questa postilla purché si stiano le dovute disposizioni e tu c'è avrai i fiumi di gente ah il prete ha detto è così fate la comunione Gesù non vede ora è contento e chi sono io che non fa contento il nostro Signore non amo e attenzione dopo la comunione quanto tempo resta in noi Gesù Cristo vedete come dopo la comunione Gesù Cristo resta in noi finché durano le specie eucaristiche le specie eucaristiche in base alle ai riscontri esperienziali durano circa 15 minuti come ho detto infinite volte ma tanto ho ripetito agli uvant poi se una persona ci sono dei fedeli amanti di Gesù e devoti questo io lo so con certezza che amano cercare di trattenere il più a lungo possibile l'ostia in bocca prima di permettere insomma che si scioga che si deglutisca lo fanno come atto di amore nei confronti del Signore stop un pochino di tempo in più con Lui io nella mia pochezza mi sento insomma portato a pensare che questa cosa non solo non dispiace ma possa far piacere al nostro Signore e che in ogni caso da quando l'ostia viene deglutita diciamo così non è che la specie eucaristica si consuma subito non c'è bisogno di andare a fare il corso di come funziona l'apparato digerente per essere consapevole insomma anche l'uomo della strada anche la persona ignorante lo sa che non è che la cosa che hai ingerito sparisce subito ci sono i famosi 15 minuti ora significa che se generalmente la Messa finisce subito dopo la comunione adesso con non ci sta più manco l'ultimo Vangelo e le preghiere leonine non lo fa nessuno quindi che cosa succede che dopo la comunione c'era l'orazione colletta si potrebbe fare un pochino di silenzio facoltativo ma probabilmente si fa o comunque è una cosa irrisoria sono 20 secondi 30 secondi dopodiché benedizione se è un giorno feriale che non ci sta come dire la sfilza di avvisi tu puoi uscire ma se esci e ti hai fatto la comunione ti porti a spasso il nostro Signore ed è un atteggiamento gravemente riferente anche questo da confessare chi l'ha fatto e da non fare più non bisogna farle più queste cose vuoi fare la comunione e allora fai la persona educata cioè scusate se ci viene un ospite a casa nostra che fai arriva l'ospite e io me ne vado lo lascio impalato c'è l'ospite io me ne vado in camera davanti al computer perché ciò da scrivere un articolo e l'ospite se ne resta nella holla e si arrangia la persona che facesse questa cosa qui si potrebbe dire senza timore di mancare alla verità almeno forse alla carità un pochino ma alla verità certamente no che è un gran cafone ma è possibile che bisogna trattare il nostro signore peggio sempre di come si tratterebbe qualunque persona normale cioè a lui sempre sempre il peggio lui che ci ha dato il meglio del meglio a lui sempre il peggio sempre gli scarti sempre gli avanzi basta basta no allora io sarebbe il mio grandissimo desiderio per le persone che ascoltano quelle cose che che dico e che speriamo che siano sensate interiorizzino certe cose non è che devono fare queste cose perché gliele dico io ma le interiorizzino e quindi le facciano non perché glielo ho dette io ma perché avendoci pensato le riconoscono come sacrosante come giuste e quindi diano al signore quello che gli ha dovuto anche in riparazione dei molti troppi quasi tutti ahimè che non glielo danno e chiudiamo alla grande il capitolo della comunione quali effetti produce l'eucaristia in chi la riceve degnamente in chi la riceve degnamente quali effetti produce pronti partenza e via facciamo pronti partenza e via l'eucaristia in chi la riceve degnamente conserva e accresce la grazia che è la vita dell'anima come fa il cibo per la vita del corpo rimette i peccati veniali e preserva dai mortali due da spirituale consolazione e conforto tre accrescendo la carità e la speranza della vita eterna di cui è pegno stiamo in estasi tutti quanti io la chiamo l'estasi cosciente conserva e accresce la grazia se non mangiate la mia carne non bevete il mio sangue non avrete in voi la vita l'ostia è per l'anima ciò che è il cibo per il corpo tu non puoi non mangiare se non diventi prima tisico poi diventi la tbc e vai al sanatorio poi diventi irachitico e poi mori buono ressico e poi mori conserva e accresce la grazia perché la grazia non è una cosa che tu c'è una volta per tutti quante volte ho detto ho raccontato della gente che dice ah beato lei padre vorrei avere la sua fede dico alt alt ma che ti pensi che io sono il figlio dell'oca bianca o che sai a me siccome so io il nostro signore dice ma ti ti ha dato una grande fede a me invece no ma stiamo scherzando io sono un battezzato come te non è che io ho ricevuto una fede un po' un po' di più oppure ho ricevuto una fede un po' più forte invece tu poverino no abbiamo ricevuto la stessa cosa solo che siccome la la fede e le virtù teologali sono un corollario della grazia perché si ricevono tra l'altro insieme alla grazia santificante al momento del battesimo se tu queste cose non le nutri le perderai come per dire la grazia per dire la fede per dire la speranza e per dire la carità quindi è importantissima la comunione sacramentale secondo rimetti i peccati veniali lo sapevate perché i peccati veniali non sono oggetto obbligatorio della confessione la chiesa raccomanda la confessione dei peccati mortali in veniali ma è obbligatoria di per sé la sola confessione dei peccati mortali poi è chiaro che la cosiddetta confessione di devozione dove si confessano i peccati veniali le perfezioni è uno strumento formidabile un mezzo di perfezione straordinario ci si esercita l'umiltà si riceve comunque la grazia supplementare di un sacramento quale quello della penitenza si tiene il polso della nostra vita perché per confessarti devi fare la sana di coscienza si possono sentire delle buone esortazioni dopo la confessione si è come dire in qualche modo stimolati a tendere sempre alta la via sulla santità ma ogni volta che facciamo la comunione i peccati veniali sono rimessi e siamo preservati dai mortali perché nessuno di noi sta al sicuro ma è chiaro che se uno fa delle comunioni fatte bene fruttuose sarà molto difficile che cada in peccato mortale e infine da spirituale consolazione è chiaro che da spirituale consolazione a chi non fa il cafone col padrone di casa cominciamo a stare buoni dopo che abbiamo fatto la comunione io conosco persone che la cosiddetta ora santa per chi può ovviamente quindi l'ora di adorazione che sarebbe il massimo farla tutti i giorni la fanno chi se lo può permettere e chi ha anche le condizioni di poterlo fare dopo la comunione il top sarebbe un'ora un'ora di preparazione un'ora di messa e un'ora di ringraziamento questo sarebbe proprio il top questo è chiaro che è roba quasi esclusivamente per sacerdoti preti frati monache però se qualcuno potesse e volesse spirituale consolazione conforto lo avverti il conforto del cielo non c'è niente di più bello che di sovra stia come possiamo avere nel cuore e poi accresce la carità attenzione la carità è l'amore anzitutto verso il signore verso di lui amerai il signore di tu con tutto il tuo cuore con tutta la tonia con tutte le forze che si sente arido freddo che non c'è una parola buona un gesto d'amore un affetto per il nostro signore non sta messo bene quello che è tutto il rogale della carità figlioli miei cari e ogni comunione che facciamo questa cosa ce la accresce e insieme alla carità accresce anche la speranza della vita eterna di cui è pegno si dice corpus domi osti di scrissi custodat animantua in vita materna si diceva un tempo il pegno della vita il pegno sapete cos'è il pegno il pegno è una garanzia del credito tu c'hai il pegno perché sai che la persona che ti ha dato il pegno ti pagherà il debito quindi se tu c'hai l'ostia un giorno ci avrà il paradiso perché l'ostia è la presenza di Gesù vivo e vero dentro di te e il paradiso che cos'è è andarlo a vedere e a godere noi figli di Dio non ci abbiamo paura della morte non ci facciamo terrorizzare come è successo non troppo tempo fa dallo spauracchio della morte si muore allora un figlio di Dio non perché disprezza la vita ma perché ama la vita si muore magari l'unica cosa che sia pronto l'unica cosa che abbia già spiato le mie colpe l'unica cosa che se andiamo a fare qualche anno luce di purgatorio è meglio che rimango qua non troppo di tempo ma solo per questo se no magari qui giù non viviamo la vera vita qui viviamo un abbozzo di vita certo se se andiamo alla grande se curiamo una buona vita di grazia di santificazione insomma è bella anche la vita terrena con le croci ma è bella però c'è niente a paragonare con la vita del cielo quindi la speranza sarà forte e viva anche questa è una misura in cui abbiamo fatto delle buone comunioni capiamo in questo senso quanto è importante fare delle buone comunioni ci fermiamo qui il sacrificio della messa c'era una puntata a parte io spero di finire il ciclo entro la fine di luglio però se non ci dovessimo riuscire a pazienza ma queste cose sono troppo importanti per trattarle di corse io vi benedica e la Madonna vi protegga